Il progetto di alternanza scuola lavoro Ciao Giulia, cosa ci puoi dire del progetto che avete eseguito? Intanto il nome del progetto è Maxi Artwork realizzato in collaborazione con la fondazione di Maxi Museo del XXI secolo. Il progetto comprendeva 66 ore e alcune svolte a scuola, altre al museo Maxi. Che tipo di attività avete svolto? Le attività principali che abbiamo svolto sono diverse, come ha detto Giulia, in diversi luoghi. Quelle svolte in classe e a scuola abbiamo imparato a redigere un curriculum vite e una volta terminato è stato consegnato ai responsabili del Maxi che poi ci hanno accolto per svolgere l'attività pratica. All'interno del Maxi ci sono state presentate diverse figure professionali del mondo della cultura, come un videomaker, un blog designer, un curatore, un allestitore di una mostra. Inoltre nella seconda settimana abbiamo lavorato a forma camera e siamo andate anche sul luogo, per esempio a Villa Borghese, ad analizzare il muro con Triumph e Lamens. Molto bene Anna, che competenze avete acquisito con questo progetto? Come redigere un articolo di giornale, come realizzare un video, come fare un curriculum video che può essere molto utile, come parlare in pubblico attraverso lezioni di public speaking e oltretutto abbiamo capito anche come creare un blog che può essere molto utile. Che rapporto avete avuto con i tutor, sia esterni che interni? Allora, ovviamente la professoressa Marani, che era la nostra tutora interna, ci ha molto supportato durante tutto il percorso di alternanza scuola-lavoro e è stata molto d'aiuto, così come i tutor esterni che ci hanno sempre aiutato in qualunque passo facessimo. Ci siamo trovati bene soprattutto con Federico e Giulia, i tutori esterni che ci hanno spronato e ci hanno aiutato ad essere meno timidi, per esempio davanti alle telecamere quando abbiamo girato un video dove presentavamo le nostre emozioni rispetto al progetto che stavamo svolgendo. La professoressa Marani come tutora interna ci ha aiutato molto, oltre a svolgere le attività dell'alternanza, coincilando anche con i tempi e le attività scolastiche. Inoltre i tutor esterni come Giulia e Federico ci hanno aiutato a capire e a svolgere al meglio le professioni che ci hanno presentato. Quindi di questa esperienza cosa vi è piaciuta in particolare? La consigliereste ad altre persone che dopo di voi dovranno comunque seguire i progetti di alternanza scuola-lavoro? Sì, consiglierei questa esperienza di alternanza scuola-lavoro, perché credo che questo progetto ci abbia aiutato e sia stato uno dei migliori progetti che ci hanno presentato. Poichessia siamo stati sul posto di lavoro e sia ci hanno presentato figure professionali, che ci hanno insegnato e ci hanno spiegato ciò che svolgono tutti i giorni. Sì, consiglierei questa esperienza di alternanza scuola-lavoro, soprattutto per i licei linguistici, poiché è inerente con il percorso di studi che stanno seguendo. Personalmente questa attività mi ha lasciato in mente, mi ha dato spunto per ciò che voglio fare da grande, la guida turistica. Sì, sicuramente consiglierei a tutti coloro che frequentano licei linguistici questo progetto di alternanza scuola-lavoro e io stessa lo ripeterei, poiché mi ha aperto nuovi orizzonti su magari una futura professione che potrei intraprendere e anche sicuramente abbiamo toccato dei temi che sia pratici che teorici che a scuola non ne sentiamo per nulla parlare. Sì, sicuramente non ne sentiamo per nulla parlare.